Nel biennio è più drammatico per i mercati internazionali quello in cui austerity e la parola d'ordine per tutti ci sono realtà che non solo si contraddistinguono ma che registrano una vera inversione di tendenza. La Banca Popolare Pugliese è una di queste. Un patrimonio di 300 milioni di euro, gli utili a quota 13 milioni, un incremento del 5,68% dei crediti concessi alla clientela. Questi i numeri snocciolati nell'annuale assemblea dei soci e che parlano da soli. Nessun segreto per la banca, è tutta una questione di identità. Cerchiamo di essere sempre presenti in tutte le forme che ci consentono di fare il nostro lavoro ma nello stesso tempo dare sostegno all'economia locale che dà sostegno alla banca. È un circolo virtuoso questo. La Popolare Pugliese invece ha sempre fatto una leva fortissima sulla conoscenza del territorio, sul radicamento nel territorio e sostanzialmente nella capacità di distribuire, oltre al dividendo monetario. Un dividendo reale, cioè contribuendo alla crescita dell'economia locale. La BPP è sempre stata tra le prime banche aderenti agli accordi per facilitare l'accesso al credito. Recentemente abbiamo anche indirizzato una lettera alla provincia per aderire all'invito che la provincia di Lecce ha fatto alle banche di rendersi cessionarie dei crediti delle imprese verso la provincia. Abbiamo continuato a sostenere le imprese, le famiglie, i nostri crediti verso clientela sono aumentati del 5,68%, d'altronde siamo una banca che raccoglie e investe al sud. La strada per uscire dalla crisi è lunga e complessa, le possibilità di essere aiutati ci sono, basta saperle cogliere. Ma non è tutto negativo come sembra, uno spiraglio di luce già si intravede. Tutti gli analisti dicono che verso la fine del 2012 dovrebbero registrarsi i primi segni di ripresa che poi è destinato a consolidarsi nel 2013. Incrociamo le dita e speriamo che gli analisti questa volta abbiano letto bene in questo futuro prossimo.